Vi chiedo scusa perché solitamente voglio arrivare per la pausa pranzo, per l'inizio per lo meno della pausa pranzo. Oggi sono arrivato un po' lungo ma avevo anche da preparare alcune cose per oggi pomeriggio perché alle 14 ci vediamo sulla BoboTV Channel, live su Twitch perché abbiamo un dibattito importante su Federico Chiesa, che sarà un po' anche il dibattito di questo video. Io mi sono scritto un po' di appunti in generale che andremo a sviscerare, in realtà, perché oggi credo che Federico Chiesa sia un tema in casa Juve, però partirei da quella che è un'ufficialità, arrivata veramente pochi istanti fa e quindi colgo la palla al balzo per dire che sì, sono arrivato tardi, però almeno possiamo parlare di questa cosa. E cioè Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni per via del doping, di quella cosa che è accaduta purtroppo all'inizio di questo campionato. Inizio col dire che è un bel peccato ed è una tristezza senza pari perché io sono abbastanza convinto che Paul l'abbia fatto senza malizia, però quando sei un professionista non puoi essere così disinteressato sull'attenzione che devi riporre nel prendere determinate cose, nell'informare i medici della tua squadra su determinate cose. Credo che la Juventus sia follemente arrabbiata con Pogba in questo momento e credo che a mani basse il ritorno di Pogba sia la peggiore operazione di mercato che sia mai stata fatta perché Pogba arriva con uno stipendio comunque da top player, il primo anno praticamente lo perde dietro a un menisco per via di un'operazione rifiutata a inizio stagione per poter andare a giocare il mondiale, spoiler, mondiale che alla fine non giocherà neppure proprio per via di queste scelte poco professionali. poco professionali di Paul Pogba per poi ritornare a disposizione per la nuova stagione dove non ci sono problemi fisici ad attanagliare quella che è la cronaca di Paul bensì ci sono problemi relative a delle scelte scellerate, scellerate, qui è proprio mancanza di attenzione. La rovina di una carriera perché quella di Pogba era una carriera che all'inizio sembrava destinata a scoppiare, Paul vince il mondiale, non nell'ultima edizione ma in quella prima e lo vince anche da protagonista con gol in finale eppure la percezione nonostante questo è quella di un calciatore che avrebbe potuto dare ancora tanto di più, è un classe 93, è un giocatore che dovrebbe essere negli anni della piena maturità calcistica e professionale e invece sono gli anni in cui si becca una maxis qualifica di 4 anni dove viene accolta la richiesta della procura antidoping. quindi è una tristezza senza pari, vi devo dire la verità, mi dispiace tanto soprattutto perché io a Paul ho voluto tanto bene nel primo ciclo quando si parlava di Pogba che tornava, io mi ricordo che erano anche gli anni in cui si diceva allora lo stipendio di Dybala, il renovo di Dybala io Pogba e Dybala li ho avuti come veri e propri idoli all'interno del percorso da Juventino perché sono giocatori che nei miei anni in cui ero magari più ragazzino erano i giocatori più impattanti e dicevo però ragazzi bisogna fare dei conti, bisogna sempre fare dei conti per capire la fattibilità delle operazioni, non può essere solo cuore e credo che questo sia un assist meraviglioso per quello che è il caso legato a Federico Chiesa perché quest'estate si è parlato tanto di una possibilità legata al rinnovo di Chiesa in questo momento c'è un po' di silenzio, non si sente io vi dico la verità, non credo che Chiesa quest'estate abbia avanzato la richiesta di 7-8 milioni di euro quelli che sono non penso che sia accaduta, penso che sia stata più una volontà della Juventus di capire anche l'umore dei tifosi da quel punto di vista lì oggi Chiesa è un giocatore che torna da un infortunio al crociato è tornato l'anno scorso in realtà, ma sicuramente un crociato per il tipo di giocatore che è Federico Chiesa va ad impattare fortemente e da quello infortunio al crociato purtroppo ci stiamo portando dietro dei convocato o non convocato di Chiesa per via di problemi fisici, di fastidi fisici ieri c'è stato quel contrasto con Alexandro in allenamento e la caviglia che non regge ora vedremo cosa ci sarà vedendo semplicemente il video mi pare di capire che sia un contrasto e ci si sia fermati per precauzione nulla più sarei sorpreso, sarei stupito di non vedere Chiesa contro il Napoli a disposizione tra l'altro Napoli che ieri vince per 6-1 nel recupero contro il Sassuolo e quindi ci fa capire anche che sta ritrovando un po' quello spirito di gruppo e quella voglia di stare insieme che forse è mancato nella prima gestione di Garcia e di Mazzarri perché c'era molto un clima pesante quando arriva un allenatore a poche giornate dal termine deve partire da quelle robe di ricompattare il gruppo in prime se poi ritrovare quelli che sono delle ideologie tattiche che Spalletti ha lasciato in eredità per forza di cose però questo è un altro discorso e quindi mi stupirebbe poi magari ci saranno degli esami, gli esami confermeranno qualcosa di più però vi dico la verità credo che Chiesa alla fine sarà a disposizione con il Napoli ma non è tanto questo nello specifico quanto più tutti quei problemi che si porta dietro dall'operazione al ginocchio tante volte abbiamo sentito Allegri dire non è niente di grave anche a livello clinico non c'è lesione, non c'è rottura, non c'è niente però non se la sente, io vi dico sempre che entrare nella testa dei calciatori quando si dice non se la sentono è difficile ragazzi perché soltanto la persona può sentire quella roba lì solo la persona però vi dico che per me oggi Federico Chiesa non può essere un titolare nella Juve oggi in questo momento qui che era un po' il discorso che si faceva con Vlaovic qualche settimana fa o comunque che si è fatto con Vlaovic anche l'anno scorso a maggior ragione Chiesa perché Chiesa è una tipologia di calciatore che quando non è al 100% fisicamente non riesce a dare il meglio di sé poi per me Chiesa rimane un giocatore che ha delle qualità e delle caratteristiche che dentro la Juventus servono e servono come il pane e serviranno come il pane anche in futuro quindi io vi dico rinnovo di Chiesa sì o no? la macro risposta è sì per me partendo da questo presupposto la macro risposta è sì perché se no il rischio di fare un altro caso di Bala mi spiego perdere un giocatore che ha delle qualità qualità tecniche importanti a poco perché oggi Chiesa con i problemi fisici e l'infortunio e la scadenza di contratto secondo me oltre 30 milioni di euro di cartellino non te li da nessuno e poi bisogna vedere se Chiesa accetta la destinazione perché l'anno scorso un paio di squadre da Premier si erano informate ma non erano squadre di livello Aston Villa e roba del genere quindi magari Chiesa non era semplicemente attratto dal progetto quindi secondo me Chiesa vorrebbe rimanere la Juve io sono molto convinto che Chiesa si trovi nella Juve e rimarrebbe alla Juve volentieri per quello vi dico che non credo che ci siano state delle richieste così elevate però poi bisogna ragionare davvero sul fattore economico perché la Juventus adesso entra nella zona in cui deve centellinare i suoi acquisti o i suoi rinnovi e deve garantirsi dei rinnovi anche di un certo tipo anche Vlaovic diventerà una tematica perché Vlaovic ha un ingaggio che va a salire per quello che è stata l'offerta che gli è stata prospettata dalla Juventus all'epoca la Juventus quegli ingaggi non li può gestire Rabbio è ancora in scadenza senza decreto crescita che cosa succederà? rinnoverà ancora? Ha quelle cifre? A meno? Senza entrare nel merito del rinnovo di Allegri che se rinnoverà, se rimarrà sarà un rinnovo per forza di cose a ribasso perché la Juve oggi quegli stipendi non li può garantire e tutti quelli che arriveranno successivamente sul mercato quindi sono per forza di cose ragionamenti questi economici poi ci sono quelli sportivi per me la Juventus non può cedere i giocatori forti a maggior ragione se non ci va a guadagnare di più ma quello è un plus il fatto di aver perso Dybala e di non essere ancora riusciti a rimpiazzarlo effettivamente perché il rimpiazzo Dybala alla fine sono stati Di Maria e Pogba e oggi abbiamo la conclusione del fil rouge non c'è stata una sostituzione adeguata da parte della Juventus tant'è che Di Maria dopo un anno va già via e quest'anno comunque sta facendo molto bene al Benfica certo, campionato diverso, quello che volete ma sta facendo decisamente meglio rispetto all'anno scorso alla Juve e Pogba oggi squalificato per quattro anni quindi purtroppo quando ci sono già dei giocatori che abbiamo noi il conto è, mi arriva l'offerta cavolo, quest'estate mi arriva l'offerta da 50-60 milioni per Chiesa e lui vuole andare e la Juve ha bisogno di soldi non riesci a rifiutarla e lo fai ma se devi arrivare alla condizione di un giocatore come Chiesa di fartelo svincolare via o pagare o darlo a poco di cartellino io vi dico la verità, ovvio, all'interno dei range perché se Chiesa chiede 8 milioni mai nella vita può succedere che l'Avventus lo vada a rinnovare ma se rimane bene o male lo stesso ingaggio io lo rinnoverai senza senza ma anche di fronte a questi che sono dati che andremo a sviscerare oggi su Twitch, alla BoboTV che sono dati preoccupanti sono dati preoccupanti vi do per dire un esempio Chiesa ad oggi in 22 partite in generale ha segnato anzi la somma tra gol più assist è 8 ok? di cui 4 gol più assist a settembre vuol dire che il mese di settembre ha fatto un ottimo mese e gli altri sono stati mesi che per via di condizioni fisiche condizioni tecniche condizioni tattiche non si è visto miglior Federico Chiesa e sembra essere sullo stesso livello del Federico Chiesa dell'anno scorso quello post infortunio che puoi capire che sia con un rendimento minore sta tornando da un crociato e se ricordate è tornato anche dopo rispetto a quelle che erano le previsioni quindi il dubbio che possa essere stato fatto qualcosa di sbagliato nell'operazione o nel recupero di Chiesa mi viene però Chiesa c'è una cosa di cui sono sicuro ha le caratteristiche e la capacità di essere un grande giocatore per la rosa della Juve per il livello della Serie A per la nazionale italiana perché non credo che sia una coincidenza che la nazionale vince l'europeo con Chiesa e senza Chiesa nemmeno si qualifica al mondiale sono davvero convinto che quella sia stata una discriminante assurda Chiesa è un giocatore di livello alto ma oggi non può essere un titolare nella Juve oggi poi bisogna vedere che cosa succede perché le caratteristiche tecniche non le perde è la condizione fisica che è precaria stessa roba di Vlaovic Vlaovic l'anno scorso con la pubalgia Vlaovic quest'anno senza pubalgia due giocatori diversi perché le caratteristiche del giocatore rimangono poi ci sono quelle fisiche allora lì io alzo le mani non posso andare oltre nell'analisi lì ci sono degli specialisti ci sono delle persone che hanno studiato dei professionisti che sanno dove mettere le mani sanno come studiare questa situazione poi io posso dirvi la mia dal punto di vista tattico e dal punto di vista tecnico dal punto di vista tattico secondo me c'è da ragionare tanto e ieri ne abbiamo parlato nella live che abbiamo fatto abbiamo spiegato anche il 3-5-2 più che il modulo e i compiti di Pirlo di Allegri e anche oggi secondo me alla Bobo TV ci torneremo su questa roba dal punto di vista tecnico io non metto in discussione le caratteristiche di Chiesa giocatore forte punto dal punto di vista economico e dal punto di vista medico quelle sono riflessioni che deve fare la Juventus sicuramente ad oggi c'è un caso legato a Federico Chiesa c'è un caso anche legato alla figura di Chiesa in relazione all'allenatore perché non si sono trovati non c'è quel feeling secondo me non è scattata questa scintilla tra Chiesa e Allegri quindi io rimango della mia opinione di cui vi avevo già detto qualche settimana fa per me l'anno prossimo o Chiesa o Allegri o addirittura nessuno dei due non credo che possa esserci l'opportunità di vedere sia Chiesa che Allegri alla Juventus ancora l'anno prossimo poi come diceva Nedved chi vivrà vedrà però queste sono un po' le mie indicazioni fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti fatemi sapere se secondo voi Chiesa ci sarà domenica contro il Napoli se secondo voi Chiesa rinnoverà se secondo voi oggi Chiesa è un giocatore titolare per la Juve vi dico per me è titolare no a meno che non si scelga di fare il tridente Chiesa Ildiz e Blauvic dove non è che Chiesa è portante Chiesa è un qualcosa in più e magari dopo a tot minuti perché deve allora entra Alcaraz al suo posto per dire eventualmente o UEA al suo posto o Wheeling Junior al suo posto però se devo essere concentrato sul 3-5-2 per quello che è il momento storico 29 febbraio 24 Chiesa oggi non è nelle condizioni fisiche di essere un titolare della Juventus nelle condizioni tecniche assolutamente sì perché per me Chiesa rimane uno dei più forti della Juve grazie a tutti Grazie.